Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno vivendo una relazione sempre più intensa e sotto i riflettori. Dopo aver trascorso un romantico Halloween a Villa d'Este, i due sembrano fare sul serio, trovando sempre nuove occasioni per trascorrere del tempo insieme. I loro figli, che frequentano la stessa scuola, hanno giocato un ruolo importante nel creare opportunità di incontro. Recentemente, la coppia ha organizzato una passeggiata di gruppo con i bambini ai mercatini di Natale di Milano a Porta Venezia, rafforzando ancora di più il loro legame. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme con la famiglia allargata di Gabriele Parpiglia ai mercatini di Natale di Porta Venezia. I due si sono fermati a giocare alla pesca dei pinguini, mostrando una grande complicità e felicità. Ferragni sembra visibilmente serena, segno che questa nuova relazione sta prendendo piede rapidamente. Dopo il primo bacio pubblico ad Halloween e le passeggiate mano nella mano, sembra che il loro amore stia diventando sempre più concreto. Giovanni Tronchetti Provera ha tre figli dalla sua ex moglie, Nicole Molhausen, e la conoscenza dei figli di Chiara Ferragni sembra testimoniare la crescita del loro rapporto. Le immagini mostrano una crescente sintonia anche con i bambini e si aspetta l'ufficializzazione della relazione sui social. Dopo un breve flirt con Silvio Campara, Chiara Ferragni sembra aver trovato una nuova stabilità con Giovanni Tronchetti Provera, con cui il suo rapporto sembra più serio.